in questo video metteremo la parola fine all'argomento array introducendo la struttura di controllo for each inoltre scopriremo un'altra variabile di default magica del perl e infine guarderemo insieme l'operatore each buona visione per renderci ancora piacevole la manipolazione di un intero array e il perl ci mette a disposizione la struttura di controllo for each guardiamo l'esempio per capire come funziona ho creato l'array personaggi al quale assegnate i valori fred shaggy scooby velma e dafne dopodiché ho inizializzato una struttura di controllo for each nella quale creo al volo una variabile personaggio e eseguo un'iterazione sull'array personaggi cosa succede dietro le quinte della struttura di controllo for each avviene un'iterazione come può avvenire in un classico ciclo for uno di quelli che abbiamo eseguito tantissime volte per stampare ciò che si trova in indice i dell'array x quindi viene eseguita un'iterazione all'interno dell'array personaggi e ad ogni iterazione ciò che si trova in indice i dell'array personaggi quindi in indice corrente dell'array personaggi verrà spostato all'interno della variabile personaggio infatti ad ogni iterazione stampo in output il contenuto della variabile personaggio attenzione perché la variabile personaggio era chiusa tra singoli apici per non innescare il principio di interpolazione e poi niente concatenata con la variabile personaggio vera e propria per stampare in output il risultato guardiamo lo script in esecuzione ok alla prima iterazione abbiamo dentro personaggio fred poiché è il primo della lista dopo shaggy poiché è il secondo poi scubi velma e dafne come vedete ad ogni iterazione all'interno dell'array personaggi è stato spostato ciò che si trova in indice corrente all'interno della variabile personaggio inoltre è di fondamentale importanza sapere che la variabile di controllo utilizzata all'interno di una struttura for each che nel nostro caso è la nostra variabile personaggio non è la copia del valore che si trova in indice corrente all'interno della lista bensì è l'elemento della lista stesso quindi andando a modificare il valore della nostra variabile di controllo andiamo a modificare di conseguenza anche l'elemento all'interno della lista ho modificato leggermente lo script precedente per farvi vedere come sia possibile modificare e manipolare gli elementi all'interno di una lista attraverso le variabili di controllo per prima cosa una struttura for each che ad ogni iterazione sull'array personaggi stampa in output la variabile di controllo personaggio questo per avere in output la lista di valori contenuti all'interno dell'array personaggi prima di andarli a modificare dopodiché una struttura di controllo for each che esegue ad ogni iterazione sull'array personaggi il controllo sulla variabile di controllo personaggio scusatemi il pessimo gioco di parole e se quest'ultima è uguale a scubi si assegna alla variabile di controllo personaggio la stringa scubidoo infine una struttura di controllo for each tale e quale alla prima che serve a stampare in output la lista di valori dopo la modifica guardiamo lo script in esecuzione personaggi prima quindi l'array personaggi prima della modifica troviamo fred shaggy scubi velma e dafne e nell'array personaggi dopo la modifica troviamo fred shaggy scubidoo velma e dafne qui è possibile notare come è stato possibile modificare scubi con scubidoo semplicemente andando a modificare la nostra variabile di controllo in quanto come detto in precedenza contiene non la copia del valore all'interno della lista bensì l'elemento della lista stesso quindi modificando la nostra variabile di controllo modifichiamo di conseguenza l'elemento all'interno della lista quindi come abbiamo visto per utilizzare la struttura di controllo for each dobbiamo per forza dichiarare una variabile di controllo ma guardiamo lo script che cosa sta succedendo sto utilizzando una struttura di controllo for each sull'array personaggi senza però dichiarare alcuna variabile di controllo inoltre come se ciò non bastasse sto utilizzando la feature 6 sul nulla che cosa può succedere in output guardiamolo insieme contro ogni previsione funziona tutto a meraviglia ma guardiamo come mai la struttura di controllo for each utilizza dietro le quinte per effettuare le sue operazioni la per favorite default che è questa cosa qua è composta da dollaro e un underscore e come se ciò non fosse abbastanza pure la feature 6 utilizza la per favorite default quindi utilizzando questa forma e rieseguendo lo script abbiamo lo stesso identico risultato la per favorite default è uguale a qualsiasi altra variabile che potremmo dichiarare l'unica cosa che la differenza è la sua forma che è un po bruttina però è anche stramaledettamente utile in alcune situazioni e funziona pure con la funzione print però come potrete immaginare ci stampa tutti gli elementi della lista dell'array personaggi sulla solita riga in quanto la peculiarità della feature 6 è quella di aggiungere il new line alla fine della stringa infine guardiamo l'operatore each l'operatore each restituisce una coppia di valori da un array e la coppia di valori così restituita corrisponde ad indice e valore dell'elemento preso in considerazione ma guardiamo l'esempio ho mantenuto il nostro array personaggi con i soliti elementi al suo interno poi ho utilizzato un ciclo while che stampa ad ogni ripetizione le variabili indice personaggio fin tanto che la condizione in testa risulta true ma quando è che questa condizione risulta true analizziamola insieme ad ogni ripetizione del ciclo while vengono assegnati alle variabili indice personaggio i valori di ritorno dell'operatore each il primo ad essere estratto è l'indice che viene quindi assegnato alla variabile indice successivamente viene estratto il valore che viene assegnato invece alla variabile personaggio ad ogni chiamata dell'operatore each quindi ad ogni ripetizione del ciclo while viene preso l'elemento dell'array successivo fin tanto che l'operatore each riesce ad assegnare con successo le variabili indice e personaggio i valori di ritorno la condizione risulta true la condizione invece è false quando invece non riesce ad assegnare con successo i valori e quindi detto ciò quando è che la condizione risulta false quando l'operatore each non trova più elementi da cui estrarre i valori all'interno dell'array guardiamo lo script in esecuzione alla prima iterazione abbiamo abbiamo 0 e fred questo perché alla prima iterazione each estrae la prima coppia di valori e assegna ad indice l'indice quindi 0 viene assegnato alla variabile indice e assegna a personaggio il valore relativo all'indice quindi il valore relativo all'indice 0 è fred e quindi all'interno della variabile personaggio viene assegnato fred alla seconda ripetizione abbiamo invece 1 e sciaghi questo perché come abbiamo detto l'operatore each ad ogni chiamata prende l'elemento dell'array successivo l'elemento successivo è l'indice 1 assegna alla variabile indice il valore 1 e alla variabile personaggio il valore relativo all'indice 1 e quindi indice 1 e valore scecchi e così via fin tanto che vi sono elementi all'interno dell'array quando poi arriva dafne e esegue cerca di eseguire una nuova ripetizione non trovando più alcun elemento dopo dafne la condizione risulta false e quindi si esce dal ciclo e si termina lo script bene dopo l'operatore each possiamo finalmente mettere la parola fine all'argomento array dalla prossima lezione si volta pagina ma se avete dei dubbi delle perplessità o insomma per qualsiasi cosa vi invito a lasciare un commento e niente quindi direi che anche per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima